Lassi L'Axo, spiegaci un po' cosa avviene in questi primi giorni di preparazione con la squadra. Adesso è la ripresa dopo tre settimane e mezzo senza attività fisica, quindi i primi giorni sono consacrati al ritorno all'attività fisica. Abbiamo un'estate corta dovuta alla stagione lunga che abbiamo avuto, quindi è un problema di lusso se vogliamo. Quello che ho spiegato ai giocatori anche ieri all'inizio è che abbiamo un approccio di 11 mesi adesso. Non puntiamo a rompere tutti i nostri record fisici a fine luglio, ma vogliamo essere sani in forma anche tra 11 mesi. Prendiamo il nostro tempo di ripartire in modo sano, sicuro una stagione lunga come la scorsa crea parecchi infortuni e problemi nei giocatori. Che stringono i denti a fine stagione, però adesso ci sono un po' di cose da mettere a posto fisicamente. Per qualcuno la stagione non è ancora finita, diversi giocatori stanno giocando i mondiali. Per loro al ritorno come gestirai il passaggio alla preparazione con la squadra? Anche lì è molto individuale perché abbiamo appunto dei casi individuali con storie di infortuni o di tempo di gioco diversi. Ovviamente chi va ai mondiali ha giocato tantissimo hockey quest'anno, avranno un po' di vacanza ovviamente dopo il torneo. Torneranno qua e poi gestiremo individualmente il tempo che rimarrà, però ovviamente non sarà così tanto fino al ritorno sul ghiaccio a fine luglio. Sono ormai 4 anni che fai il preparatore dell'Hockey Club Lugano. In questi anni con la tua esperienza cambi dei metodi di anno in anno che si evolvono oppure hai comunque una tua metodologia fissa e porti delle correzioni? No, diciamo che ho un sistema nel quale credo, quindi i principi che porto avanti sono gli stessi dall'inizio praticamente, però i metodi che uso sono cambiati e continuano a cambiare, nel senso il metodo è solo il modo di arrivare al tuo obiettivo, quindi non voglio essere legato a un esercizio, a un tipo di lavoro puro. Adesso quest'estate rispetto al passato avremo ancora più lavoro individuale, abbiamo anche ragazzi che lavoreranno fuori Lugano durante l'estate o che saranno un po' qua o un po' via, ci adattiamo un po' a queste esigenze, però diciamo che non è nessun cambiamento estremo in questo momento, si va avanti con i cambiamenti che erano già in atto durante la stagione, dove i ragazzi ricevono dei programmi individuali settimanalmente, quindi si continua su questa linea. La scorsa stagione avete giocato la Spengler, quest'anno ci sarà la Champions League, questi tornei dentro la stagione influiscono sulla preparazione, bisogna cambiare qualcosa oppure è comunque un lavoro generale basato sui tempi, sulla durata della stagione? Adesso la Champions sarà una cosa nuova per noi, quindi anch'io dovrò poi vedere esattamente cosa significherà, aspetto già di vedere le date delle partite e di vedere anche i nostri amichevoli, poi da lì mi farò un'idea del precampionato e poi anche di capire fino a dove ci porterà questo torneo. La Spengler è un torneo di 5-6 giorni, quindi in sé ci mangia un po' di vacanza e lì bisogna gestire un po' il lavoro intorno a quello. L'anno scorso abbiamo avuto questi due derby anche subito dietro, il ritmo era intensissimo, abbiamo dovuto gestire un po' il riposo dei ragazzi come riuscivamo, alla fine è andata abbastanza bene, non c'è stato un grande calo, forse a livello preventivo di vedere i carichi di lavoro mensili tenendo conto di queste partite extra quando ci sono.